Benvenuto ad Agorà il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Movimento 5 Stelle, Nicola Morra. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Torniamo seri purtroppo con un allarme davvero inquietante che è quello di ieri del capo dell'Interpol che ha detto il vaccino e l'oro liquido del 2021 è la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno. La mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. Si parla addirittura di un giro di falsi vaccini. Come si ferma questa che è obiettivamente un'aberrazione? Si ferma controllando e facendo un serio sistema preventivo di tracciamento di tutto quello che esce dai centri di produzione e arriverà nei centri dove si somministrerà il vaccino stesso. Per cui relativamente alla contraffazione di questi prodotti non dobbiamo assolutamente stupirci perché ormai le mafie da più tempo sono impegnate nel campo della contraffazione anche farmaceutico-sanitaria e per cui l'allarme che ha lanciato ieri Stocche che è stato ripreso da tanta parte della stampa italiana ma un pochino stupito perché sono cose note per chi combatte questi sodalizi criminali. Dove c'è possibilità di arricchimento le mafie ci sono sempre e siccome l'essere umano è disposto a spendere tanto per la propria salute, per la propria incolumità, è proprio in questo settore che bisogna essere ancora più prudenti. Ha maggior ragione in questo momento, però è un allarme che crea maggiore diffidenza in un momento in cui dobbiamo avere la disponibilità di tutti a farsi vaccinare. Lei si farà vaccinare, giusto? Appena sarà possibile. Sì, non ho problemi. Io vorrei che innanzitutto però si seguisse le indicazioni dei ricercatori di chi è ben più di me competente perché bisogna capire, siccome non avremo immediatamente tutte le dosi necessarie dobbiamo capire chi debba essere tutelato prima perché leggo anche cose contrastanti. Purtroppo l'altra evidenza che questa pandemia ci ha lasciato è che all'interno della cosiddetta comunità scientifica non sempre vi è una voce univoca e armoniosa ma piuttosto vi è un coro di voci molto spesso contraddittorie e dissonanti. Certo, adesso abbiamo però l'autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco quindi ci affidiamo a questa però vaccini ma non solo, lo diceva prima anche lei, nella pandemia sappiamo che rappresenta un grande affare per le mafie, la criminalità organizzata, hanno già messo gli occhi addosso sicuramente 209 miliardi del recovery fund su questo, come possiamo impedire che quei soldi finiscano nelle mani sbagliate e dove già stanno agendo le mafie perché sicuramente stanno approfittando della debolezza delle nostre imprese costrette alla chiusura. A parte il fatto che già sono emerse evidenze giudiziarie che hanno dimostrato come in diversi casi a partire dalla Calabria per arrivare anche in regioni del nord, organizzazioni criminali mafiose abbiano attinto a fondi statali per ristorare gli operatori e gli imprenditori la questione è molto molto semplice, questi sono fondi che verranno dallo Stato immessi nel mercato per favorire la ripresa, per favorire l'impresa, per favorire chi fa attività economica e qua si gioca la partita perché se lo Stato non ha controllo fino all'ultimo centesimo di quanto spende, di chi sia il benefattore o beneficiario, insomma i problemi ci sono perché sappiamo tutti chi mette soldi ma forse non sappiamo esattamente chi questi soldi li riceve per cui noi dovremmo lavorare sulla trasparenza, mi permetta di citare un caso, ieri nella mia città è stata fatta un'operazione che ha dimostrato come Cosenza, Calabria, azienda ospedaliera, quindi si tratta proprio di questioni sanitarie, venivano pagate molte più ore di straordinaria ad una cooperativa che doveva garantire i servizi di pulizia in ospedale, di quelle effettivamente prestate e fra l'altro nel contratto era previsto che si doveva attivare un software che facesse corrispondere le ore effettivamente fatte con le ore retribuite dall'azienda ospedaliera, questo software non è mai stato utilizzato e però è stato anche pagato e allora io mi chiedo da cittadino prima ancora che da senatore della Repubblica perché l'Italia deve essere il paese in cui tanti sbagliano e ben pochi pagano. Eh lo so, con i soldi anche del recovery fund, anche se insomma nel piatto sono stati messi troppo pochi, una polemica di questi giorni per la sanità, quanto il sistema sanitario è a rischio in questo momento di corruzione oltre che di malaffare? Eh guardi, le dico semplicemente questo, è dagli inizi degli anni 2000 che noi seguiamo inchieste giudiziarie che hanno come proprio focus la sanità pubblica e la sanità privata convenzionata con quella pubblica. In Calabria fu ammazzato nel 2006 il vicepresidente del Consiglio regionale Fortunio, abbiamo subito sei scioglimenti di aziende sanitarie per infiltrazioni mafiose, la spesa sanitaria è una delle voci di bilancio più costose per lo Stato, dobbiamo ulteriormente interrogarci? No, dobbiamo semplicemente potenziare il sistema dei controlli, io spero ad esempio che il sistema degli agenti sotto copertura, il sistema di controlli ex ante, ex post consenta allo Stato di intervenire puntualmente perché mi lasci dire è anche un problema di fiducia nei confronti dello Stato, se poi le inchieste si fanno, io provengo da un territorio in cui ad esempio molte procure riescono a fare inchieste però poi per problemi inerenti all'amministrazione della giustizia queste inchieste non si traducono in dibattimenti che producono sentenze passate in giudicato e come lei capisce tutto questo fa perdere fiducia, denunciare un tentativo di corruzione non è semplice dappertutto e soprattutto se lo Stato dimostra di essere non sempre all'altezza. Senta, la ringrazio facendole sentire una notizia, un'ultima ora importante, siamo partiti dai vaccini insomma al tema di queste ore, abbiamo una buona notizia e quindi la celebriamo con lei. Una bellissima notizia, sarà una donna la prima vaccinata in Italia, secondo fonti apprese dallo Spallanzani, si tratta di un'infermiera, quindi bellissima notizia. Quindi sì dai un applauso ci vuole, adesso la vogliamo vedere, grazie davvero al Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, grazie di essere stati con noi, domani ci rivediamo qui alle 8, vi aspetto, agora conto su di voi.